Sabato 20 aprile in Sala Tramoggio e Molini Marzoli dalle ore 9 alle ore 12 ci sarà un convegno dal titolo L'amore oltre perché amore e affettività non devono avere barriere, devono essere patrimoni di tutti e quindi affronteremo la conclusione di un percorso che è durato 5 mesi attraverso delle testimonianze dei nostri ragazzi e ragazze su che passi avanti hanno fatto nella gestione del loro affetto e magari anche per di qualche nuovo rapporto amoroso che si è voluto creare. Dopo la prima coraggiosa edizione dell'ottobre scorso, sabato 20 aprile dalle 9 alle 12 in Sala Tramoggio e dei Molini Marzoli a Bustarsizio si svolgerà per la seconda volta il convegno L'amore oltre, l'affettività e la sessualità nella disabilità finalizzato ad approfondire un tema importante che molto spesso però non viene trattato tra le mura domestiche o nelle comunità per mancanza di strumenti utili e mirati ma anche per consuetudine e pudore. La speranza del Comune è che all'incontro partecipino famiglie, educatori ed insegnanti.